ciao mi ha visto e musicista in generale conoscete il divan allen sicuramente l'avete già sentito nato nel 1955 morto nel 2020 leggenda icona e guitar hero nel rock e nel metal non siete curiosi di saperne di più quando e come si è attesinato uno strumento la sua vita tra i più grandi palchi e la lotta contro le sue dipendenze la sua vita privata e le diverse mogli sei curioso leggi la caption per saperne di più ciao